Ciao, sono Elisabetta, ho 34 anni, sono siciliana, vivo a Roma da 10 anni, dove svolgo attività di volontariato in una colonia felina. Mi occupo di progettare e realizzare iniziative di people caring per il benessere di tutte le persone del gruppo. I progetti che seguono l'obiettivo di far stare bene le persone. Questo ha un impatto positivo sulla loro rete di relazioni, a casa come al lavoro, in un contesto allargato in cui tutti possono apprendere strumenti e tecniche per vivere meglio e questo aumenta l'armonia sociale in senso ampio. Penso che FES sia un'azienda attenta a migliorare la vita di tutte le persone, attraverso servizi sempre più personalizzati, è una responsabilità sociale di impresa, attenta a promuovere politiche di caring per tutte le persone del gruppo e per chi si trova in una condizione di fragilità.